Siamo a questo convegno intitolato Cantiere Europa, la patria europea tra storia, attualità e sogno, siamo in compagnia di Mario Leone, segretario regionale del Movimento Federalista Europeo. Mario si occuperà di intervento un po' di una parte storica e gli vogliamo chiedere un pochino, visto che Cantiere ha sempre avuto un occhio abbastanza attento alle tematiche europee come proporle e soprattutto in questo periodo dove c'è fame di Europa e dove paradossalmente ci sono molte voci che minano soprattutto il cammino verso l'Unione Europea, questa entità politica internazionale, soprattutto quella contro i patti di Schengen, c'è chi ne vuole uscire, chi vuole addirittura eliminarli. Mario Leone, come possiamo sognare questa Europa? Il sogno è una parte fondamentale per poter poi realizzare un progetto, senza il sogno non si può assolutamente poi concretizzare, il progetto è quello dell'unificazione dell'Europa su basi federali, un sogno che nasce grazie poi a un vero e proprio progetto quale è quello scritto con il manifesto di Ventotene, il progetto di manifesto per un'Europa libera unita scritta da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli durante il confino, durante il regime fascista nel 1941. Quello se vogliamo è sicuramente un tracciato essenziale che ha fatto maturare, ha fatto concretizzare poi almeno teoricamente un nuovo modo di fare politica, un nuovo paradigma del fare politica che è quello del federalismo europeo. Sicuramente è ancora un sogno perché ciò di cui parliamo è ancora molto nebuloso rispetto al progetto di manifesto di Spinelli e Rossi, perché lì si concretizzavano gli Stati Uniti d'Europa in quel progetto di manifesto, si andava al di là delle nazionalità attuali, quindi statuali per costruire un solito Stato internazionale, così si esprimeva il manifesto di Ventotene. Oggi abbiamo tante difficoltà, tante difficoltà perché siamo in una fase assolutamente ancora ulteriore di transizione e forse facciamo qualche passo indietro, proprio perché non abbiamo realizzato compiutamente l'Unione Europea, l'Unione Europea che è ovviamente monca perché ha una gamba realizzata, quella è l'unità monetaria, ma non ha l'unione economica e politica, essenziale. Mario Leone, volevo chiederti anche un'altra cosa, ovviamente siamo tutti d'accordo per l'allargamento di questo soggetto politico, per un'unione politica ovviamente più forte, oltre a quella monetaria, però volevo chiederti secondo te basterebbe un allargamento politico, un allargamento di questa Europa oppure questa Europa andrebbe anche un po' cambiata, dobbiamo in realtà aderire, ci vogliono più paesi che aderiscono a questa Europa oppure l'Europa in realtà ancora va fatta, c'è qualcosa da cambiare in quello che è? C'è molto ancora da fare, non vale il detto fatto l'Europa, fatto il popolo europeo, anche Spinelli diceva che sarebbe stata sicuramente la costruzione comunitaria il primo passo per realizzare il popolo europeo, ma ciò che manca è un vero concetto di cittadinanza europea nei fatti, non soltanto nei diritti, perché dal trattato di Maastricht in avanti con l'articolo 3 abbiamo riconosciuto la cittadinanza europea, quindi ogni cittadino di uno Stato dell'Unione è anche cittadino europeo, ma ciò non basta per fare il cittadino europeo realmente. Ma la struttura burocratica attualmente ritieni che sarebbe efficace a questo allargamento, sarebbe opportuna, sarebbe anche di una certa elasticità, perché poi ovviamente bisognerebbe anche fare entrare nuovi popoli, nuove etnie, oppure è un po' sclerotizzata? Noi abbiamo avuto un'unione a 6 dai trattati del 57 fino al primo allargamento, poi a 9, ma sempre basato su un principio essenziale, quello dell'approfondimento delle istituzioni anziché quello dell'allargamento in modo dismisurato. È ovvio che non si può continuare ad allargare l'Unione se prima non si fa una vera e propria cessione della sovranità nazionale a un'entità sovranazionale, quindi bisogna che vengano riscritte le competenze, quindi applicato in toto il principio di sussidiarietà, allora soltanto con delle istituzioni democratiche, quindi avendo non solo una Banca centrale europea, ma avendo anche un Parlamento europeo legislativo e un vero governo dell'Unione, quale quello che proponiamo essere la Commissione futura, cioè la trasformazione in un vero governo dell'Unione, allora con una politica estera comune e quindi soltanto allora si potrà ulteriormente pensare di dare ingresso ad altri paesi, pensiamo sempre che per quanto gli ultimi trattati, il trattato di Amsterdam e il trattato di Lisbona abbiano smussato alcune procedure a livello di votazione in ambito di Consiglio dell'Unione e questo però non fa sì che permetta un vero e proprio regime di efficienza, perché ancora siamo al potere di veto, ancora su molte cose si va con la maggioranza qualificata, invece se vogliamo essere un vero Stato dobbiamo realizzare e quindi attuare le decisioni sulla base della semplice maggioranza, è ovvio che allargando la cerchia dei paesi aderenti si allarga, si alza l'asticella anche decisionale, allora cosa si deve fare? O si butta tutto a mare e quindi si torna agli Stati nazionali, si torna quindi a chiudersi ogni paese nel suo piccolo ambito, quindi andando poi a creare delle situazioni anche di estrema urgenza, perché poi ogni paese tenderà a svilupparsi in modo avverso rispetto agli altri, perché ovviamente nel momento di globalizzazione questo non è possibile, altrimenti dobbiamo cercare di migliorare quello che attualmente ovviamente non funziona, quindi le istituzioni vanno innanzitutto democratizzate, ma dato potere legislativo e quindi avere anche una carta costituzionale europea e non un semplice trattato, che fissi i principi dell'Unione, che fissi le regole, che si basi però su un sistema federale democratico, altrimenti restiamo immobili e in preda alle crisi, con la piccola crisi si sfascia tutta la casa. Un'ultima domanda che volevo fare che è più che altro una curiosità di tipo personale all'esperto in materia europea, dato di fatto come premessa abbiamo detto che manca un soggetto in realtà transnazionale, vero e proprio, una delle cose che secondo me sarebbe eliminare, e appunto volevo sapere l'opinione di Mario Leone, o perlomeno da modificare, è la cosiddetta presidenza di turno, perché le presidenze di turno sono delle cose che danno la possibilità di dare voce internazionale e non transnazionale ai paesi, cioè si va lì perché si fa il turno uno Stato per volta, come se fosse scontato e purtroppo spesso si sente che chi va in Europa nel senso, chi fa il parlamentare europeo va lì in nome del paese di provenienza, in realtà non dovrebbe essere così, secondo me la presidenza di turno è proprio una cosa che contraddice la transnazionalità. Sì, assolutamente, come sappiamo il Parlamento europeo al suo interno è diviso in gruppi politici, quindi dipendentemente dall'appartenenza nazionale di provenienza e quindi del parlamentare e questa cosa dovrebbe essere un ulteriore ausilio a sviluppare democraticamente le istituzioni, proprio perché ogni rappresentante non rappresenta il proprio Stato, ma rappresenta il gruppo politico, ciò che manca è anche un'organizzazione europea dei partiti, vediamo che è con estrema fatica che i partiti escono dai propri confini nazionali, proprio perché è difficile anche il singolo partito nazionale andare a rapportarsi con il partito che più o meno è vicino a ciò che pensa, è ovvio che questo non vale però per le grandi famiglie, la grande famiglia democratica, la famiglia socialista per dire o i verdi o la sinistra o i liberali, vale per quelle formazioni anche civiche che si sono neocostituite o quelle forze populiste di destra che invece sono delle forze non così facilmente racchiudibili in ambito europeo proprio per la loro genesi che è tipicamente territoriale, proprio per la loro idea di Stato Nazione che non è ovviamente, non dà alcuna possibilità di collegamento con gli altri partiti che promuovono lo Stato Nazione negli altri Stati. La cosa essenziale è quella di democratizzare non solo le istituzioni, ma ovviamente anche i partiti, bisogna democratizzare anche i partiti, i partiti devono capire che la lotta per il potere è una lotta che si fa in ambito europeo, non si fa soltanto in ambito nazionale, finché i partiti non capiranno questo, non realizzeranno delle strutture organizzate a livello europeo, questo non sarà possibile e lo stesso discorso può valere anche quando parliamo di Commissione europea, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti con la Commissione Juncker, è stata la prima volta che ad elezioni europee poi si è anche andato ad indicare colui che poteva rivestire la carica poi di Presidente della Commissione, ciò che non era assolutamente, non sarebbe stato poi vincolante per gli Stati Nazionali nella designazione, però è un piccolo passo in avanti e questo è servito a europeizzare un pochino l'attività in ambito di campagna elettorale europea. Perfetto, ringraziamo Mario Leone, segretario regionale del Movimento Federalista Europeo e ovviamente gli auguriamo buon convegno. Grazie. Grazie.